Buonasera a tutti i spettatori di mtt.tv, oggi breve pillola da un paseo qui di Las Americas un pochito basio e con molto vento, oggi voglio parlarvi brevemente per quanto riguarda l'apertura di Ciringuitos, le attività sulla spiaggia, in lontananza vedete una surf school, questo tipo di attività hanno bisogno di una doppia autorizzazione, una dal dipartimento Costas su a Santa Cruz e l'altra dal dipartimento dell'aiuntamento di competenza della zona dove volete richiedere questo tipo di attività, sono attività di richiesta un pochettino lunghe però ieri a Darona ci hanno detto che c'è maggiore flessibilità per quanto riguarda le concessioni rispetto al passato. Alla prossima!